No, allora, io ho detto che il problema di Demetra è assolutamente, secondo me, Demetra. Se tutti l'abbiamo nominata, soprattutto i primi giorni, un motivo c'è stato. Se è stata corretta, ha fatto un doppio gioco nei miei confronti e io mi sono sentito ferito, per me chi fa così, a me o ad altre persone, non è una persona corretta e questa cosa mi dispiace parecchio. Cioè, io con Demetra all'inizio proprio non ho avuto zero problemi, però cavolo, Demetra non si è comportata bene con me, perché parlare bene davanti e poi dopo andare in giro a dire alle spalle altre cose spiacevoli su di me... Infatti è una discussione che non abbiamo finito la settimana scorsa, perché Luca dice che tu hai parlato male alle sue spalle. È partito tutto da queste lasagne, no? È così, Demetra? No, assolutamente no, perché prima continuo, cioè se lui mi dà un attimo, vedo che lui ha tanto da dire, anche io ho un po' da dire. Sì, ho tanto da dire. Lui all'inizio, Luca, usi delle verbali, cioè veramente troppo forti per i miei gusti e non sono una psicopatica. Ho 50 anni, oltre che sono una donna e li devi rispettare un pochettino come io ho portato il rispetto per te. E l'inizio, tu sei una cattivissima persona che hai litigato già con rubi serbi. Litiga e attacchi tutti. E l'inizio, tu, quando siamo arrivati nelle case, non sono integrate con le gente. Hai parlato tu e adesso parlo io.